un saluto agli amici di mitico snake allora ragazzi ormai lo sapete già per chi mi segue da un po' su questo canale se vedete i cubi di rubic alle mie spalle o magari qualche cuba di rubic a inizio video il video andrà sempre nella rubrica del mitico rubic allora non sto qui a parlarvi di tutti i miei cubi di rubic perché ve li ho portati nel mio scorso video di cui vi lascio tutta la playlist qua in atto a destra nelle schede ma voglio parlarvi di un cubo in particolare che sicuramente tutti gli speedcuber conosceranno ma chi ha imparato a conoscere il cubo di rubic attraverso questa rubrica e soprattutto dal mio canale voglio parlarvi del mirror cube 3x3 eccolo qua ma non è che ci sia tanto da dire anche perché il mirror cube anche lui porta con sé una costruzione in plastica e lo troviamo in tre colorazioni differenti ovvero la mia quella che è la dorata ma possiamo trovarlo anche in argentato e di colore nero il cubo di rubic oltre che ad essere un 3x3 che rispetto ad un cubo di rubic normale 3x3 i suoi cubetti sono di varie forme e di varie dimensioni che ad ogni rotazione va a cambiare sempre di più quella che è la sua forma cubica quindi da una sua forma cubica assume varie forme quindi la example soft che voglio portarvi di questo cubo di rubic la risoluzione sta nel portarlo alla sua forma cubica ovvero la sua forma originale che sarebbe questa qui quindi direi di non perdere altro tempo e di andare al banco subito dopo la sigla allora amici dimmi dico snake ecco qua il mirror cube 3x3 completamente mescolato come potete vedere io posso effettuare qualsiasi rotazione come già ho detto nella intro di questo video lui andrà a cambiare forma ogni volta che faremo una rotazione e la risoluzione di questo cubo sta nel fatto che dobbiamo portarlo alla sua forma originale ovvero ad una forma cubica ok però nel risolverlo possiamo avvalerci di un qualsiasi metodo a parte il metodo Friedrich che chi riuscirebbe ad utilizzarlo beh per me è un mito nulla da dire io per questo video mi avvalgo del metodo a strati allora innanzitutto dobbiamo capire da quale centro partire perché come 3x3 dobbiamo costruire una croce sul primo strato ok allora io quando lo risolvo quella volta che lo risolvo perché non è che ci gioco molto con questo tipo di cubo parto sempre dai cubetti quelli là più sottili vale a dire questi qua ok è della stessa dello stesso spessore allora per esempio qua già ne vedo due quindi posso già iniziare a posizionarli allora vediamo un po' dove vanno perché io sinceramente non riesco nemmeno ad individuare le forme quindi mi devo avvalere ruotandole ecco qua un pezzo della croce già è stato posizionato un cubetto della croce andiamo a posizionarne un altro allora abbiamo posizionato anche quest'altro non volendo quindi ne abbiamo piazzati già due piazziamo il terzo che dovrebbe essere questo qua che va da quest'altra parte quindi porto giù in questo modo lo vado ad allineare con il suo centro e porto su abbiamo messo il terzo pezzo della croce e terzo cubetto andiamo avanti e montiamo il quarto cubetto inseriamo il quarto cubetto allora vediamo un po' prestiamo attenzione a quello che abbiamo fatto fino ad ora mannaggia che non si muove nemmeno bene perché l'ho acquistato dai cinesi quindi non è che sia il massimo questo mirror cube ecco qua spostato resistiamo questo e tiro giù l'altro cubetto della croce ed eccolo qua come potete vedere abbiamo costruito una croce sul primo strato adesso come per il cubo di rubic dobbiamo montare gli angoli e prendere sempre i cubetti dello stesso spessore per esempio questo qua questo qua che deve andare da quest'altro lato quindi lo vado a liberare magari lo vado a liberare proprio con questo qua perché deve andare qua in basso quindi l'ho fatto sulla sua posizione proprio come facevamo con il cubo di rubic 3x3 quindi lo libero lo metto in posizione e lo vado ad orientare nel modo giusto è un po' un casino perché non riesco a muoverlo ed ecco qua vedete ho sistemato già un angolo adesso nel sistemare questo ho liberato quello che va da quest'altra parte quindi eccolo qua lo vado un attimino a prendere e lo vado subito a orientare quindi vado ad utilizzare lo stesso principio che utilizziamo sul 3x3 sia per la croce sia per gli angoli manca l'ultimo angolo e lo troviamo da quest'altra parte eccolo qua ok lo porto sul suo slot di inserimento verso la sua posizione e voilà abbiamo costruito il primo strato quindi il primo strato è tornato alla sua forma originale andiamo avanti e iniziamo a costruire il secondo strato il secondo strato possiamo utilizzare gli stessi algoritmi del cubo di rubic 3x3 per piazzare i pezzi centrali però vi ripeto solo che qui dobbiamo basarci sulle forme anziché sui colori allora vediamo un attimino eccolo qua per esempio questo qui se ho capisco bene si va da questa parte qui quindi utilizzo l'algoritmo che mi permette di spostare questo cubetto da quest'altra parte quindi facendo una se riuscivo mai ok u' l' u' 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 se riuscirò f un'altra volta u mannaggia e f' e ho inserito il cubetto come potete vedere possiamo utilizzare lo stesso algoritmo che ci consente di inserire gli spigoli nella parte centrale adesso io ve l'ho fatto vedere una volta ma andrò subito a costruire il secondo strato vediamo un attimino vediamo un attimino per esempio questo qua che dovrebbe andare da quest'altro lato quindi lo vado a liberare però voglio trovare il cubetto che va qua e vediamo un attimino se ecco qua veramente faccio fatica a prendere i cubetti che dovrebbe essere questo se fosse questo qua no nemmeno nemmeno e mi sa che vediamo un po' questo qua ok quindi utilizzo lo stesso algoritmo mi consente di spostarlo nella parte centrale ed ecco qua vado ad inserire l'altro cubetto qua nella parte centrale prima lo vado a recuperare vedo dov'è e dovrebbe essere per esempio questo qua ok quindi inserisco questo per liberare questo io quando lo risolvo così faccio vedo un po' se mi trovo con le misure perché a coppo d'occhio non riesco perché confonde un po' la vista allora eccolo qua quindi va nella parte giusta e utilizzo l'algoritmo che mi consente di spostarlo da questa parte qua quello di prima ecco qua lo stesso principio del 3x3 e lo abbiamo inserito e abbiamo costruito no scusate non l'abbiamo costruito era un blef questo qua va nella parte centrale anche lui vediamo ok si va nella parte centrale quindi ho utilizzato l'algoritmo inverso io lo vado ad applicare vi ho detto vado un pochino più veloce ok sempre se non ho sbagliato nulla si mi sa che ho sbagliato qualcosa si ho sbagliato ho sbagliato infatti e devo andare a recuperare ok eccolo qua vediamo si è lui e lo abbiamo inserito vedete abbiamo costruito anche il secondo strato quindi abbiamo portato il secondo strato alla sua forma originale allora adesso come per il cubo di rubik 3x3 dobbiamo costruire una croce qua in alto allora per croce voi sicuramente vi starete imbrogliando con la vista vi sta confondendo perché la croce deve avere tutti questi cubetti qua in modo verticale quindi due ce li abbiamo dobbiamo portare in verticale questi altri due con lo stesso algoritmo che utilizziamo per fare la croce sul 3x3 ed ecco qua l'abbiamo portati nella parte alta ok adesso non resta altro che andare a mettere anche in verticale tutti gli angoli vediamo un attimino vediamo vediamo che caso si presenta e sì il caso è diagonale però qua mi abbalgo sempre degli algoritmi del 3x3 ed ecco qua adesso ci troviamo nel caso che abbiamo un solo verticale per esempio un solo colore della parte alta come nel 3x3 qui abbiamo un cubetto in verticale dopo la croce quindi io lavorando da questa parte qua dovrei riuscire a portare tutti gli altri cubetti in modo verticale ed eccoli qua vedete abbiamo fatto un OLL adesso l'OLL lo abbiamo fatto e abbiamo già due angoli piazzati ok dobbiamo sistemare gli altri due qui utilizzo lo stesso algoritmo del 3x3 che mi consente di scambiare due angoli tra i di loro e voilà dovrei riuscire ed eccolo qua ce l'abbiamo fatto e lo abbiamo quasi finito ok quindi dobbiamo portare questo da questa parte questo qua in mezzo e questo qua da questa altra parte quindi dobbiamo lavorare sul lato sinistro e vado ad applicare purtroppo l'algoritmo che viene utilizzato nel metodo a strati sul cubo di rubico quindi in questo modo qua ok adesso lo vado ad utilizzare su questa parte qua sperando che ci sia riuscito e sì ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo e lo abbiamo portato alla sua forma originale quindi vi ripeto basta prestare un po' di attenzione perché i cubetti del mirror cube possono confondere la vista e magari possiamo piazzare un cubetto anziché un altro però principalmente per risolverlo possiamo utilizzare il metodo a strati che abbiamo utilizzato anzi che utilizzavamo o che utilizziamo ancora sul cubo di rubic 3x3 e questo è il mirror cube 3x3 portato alla sua forma originale miei carissimi amici di mitico snack e soprattutto carissimi amici di questa rubrica del mitico rubic come avete potuto vedere il mirror cube 3x3 lo possiamo risolvere applicando lo stesso metodo a strati che noi utilizzavamo già sul cubo di rubic 3x3 non dico di utilizzare fridrick perché come detto nel corso di questo video io sicuramente non riuscirei ad utilizzarlo anche perché non ne conosco tutti gli algoritmi quindi lo sto ancora imparando non lo faccio sempre per via del lavoro ma lo sto ancora imparando beh che dirvi se anche voi volete un cubo di rubic ovvero il mirror cube 3x3 posso lasciarvi il link qua in basso in descrizione per l'acquisto su amazon perché lo possiamo trovare su amazon come potete vedere almeno di 10 euro quindi tutti i link del caso li trovate qua in basso nella descrizione che dirvi questo video io vi ho portato un altro example sub vi ho parlato un altro cubo di rubic e se vi è piaciuto vi raccomando fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate ma lasciate anche tutti i vostri pollicioni in su ma se non l'avete ancora fatto ve lo ricorda l'animazione iscrivetevi al canale perché è molto molto importante attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividete questi video perché a me mi aiutate molto aiutate anche a far crescere il canale voglio ricordarvi che sono presente anche su instagram chiocciola mi dico snake ve lo ricordo sempre l'animazione ma nella descrizione trovate anche tutti gli altri link alle mie reti sociali e per questo video io ho detto tutto e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale youtube ciao 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 ciao